ci troviamo nel decimo cielo l'empireo qui risiedono i beati vestiti di candide vesti sono disposti in modo da formare una grande rosa bianca i personaggi sono dante e beatrice san bernardo maria dante osserva con gioia e stupore i beati disposti come petali di una rosa candida al cui centro risiede maria mentre la luce divina risplende su tutto il poeta si volta verso beatrice ma al suo posto trova un vecchio venerando è san bernardo che lo informa di essere stato incaricato dalla donna a guidarlo nell'ultima parte del suo viaggio verso dio dante scambia un ultimo sguardo commosso con beatrice che ha preso il suo posto nella rosa san bernardo invita il poeta a contemplare lo spettacolo che ha davanti alzando gli occhi dante ammira la bellezza sovrumana della vergine